Buongiorno a tutti, prima edizione delle Mago News in cui parleremo delle frecce tricolori, di quello che è successo in questi giorni dove purtroppo una bambina di 5 anni ha perso la vita e con lei poteva perdere l'intera famiglia. Cosa è successo? È successo che uno dei velivoli che stava facendo un test, un test prima delle solite manifestazioni delle frecce tricolori in qua e là per l'Italia, è successo che molto probabilmente, adesso ci sono ancora delle indagini in corso, ma molto probabilmente a causa di uccelli finiti all'interno del motore, praticamente ha perso quota, alla fine il pilota pochi metri prima dell'impatto al suolo si è lanciato, ha cercato di portare il veivolo nella zona più sicura possibile, ma purtroppo una macchina era sulla traiettoria e c'è stato l'impatto che ha causato un rogo indicibile in cui appunto è stata centrata anche questa macchina e con la sua famiglia. Allora, quello che volevo dire io in questa prima edizione era che secondo me bisogna smetterla con le frecce tricolori o perlomeno, siccome sono anche loro tra i vari vanti un vanto, diciamo, dell'Italia, dell'aeronautica, non dico proprio smetterla, però se non vogliamo smetterla bisogna cominciare a farle girare fuori dai centri abitati, ma quando dico fuori vuol dire fuori, cioè bisogna minimizzare assolutamente il rischio. Teniamo presente che questi veivoli hanno un solo motore, mentre i veivoli civili ne hanno almeno due, quindi in caso di problemi, diciamo, di volatili che finiscono, stormi di uccelli che finiscono dei motori, se un motore va in avaria c'è l'altro e si presuppone, insomma, che non vanno a distruggersi tutti, ecco. Però almeno in questo caso ci può essere una via di salvezza, mentre se si rompe l'unico motore, chiaramente c'è poco da fare. Quello è il discorso che se avviene, e vi faccio un esempio stupido, stupidissimo, che poi non è stupidissimo, le frecce tricolori hanno girato sopra Firenze, sopra Roma, da tutte le parti, per la festa della Repubblica, ok? Tutte queste cose qua, queste manifestazioni, sono bellissime da vedere, una volta ho fatto vederle anch'io, è bellissimo vederle, però quello è il problema, che se per caso, ma questa volta è stata magari una fatalità, una tragica fatalità, però ricordiamo che ci può essere l'errore umano, cioè non è impossibile che vadano a scontrarsi fra di loro, in queste acrobazie, o che comunque possa succedere un errore di un pilota, ma se questo avviene in una zona densamente popolata, provate a immaginare che succede sul Duomo di Firenze o in un passaggio vicino all'altare della Patria. Cioè, se da giù uno di questi veivoli qua, e fa centinaia di metri di fiammata, cioè, ammazzerebbe centinaia di persone in un centro abitato densamente popolato, una strage potrebbe distruggere un monumento e insieme ammazzare 500 persone, cioè, nel senso, sarebbe come una bomba in un centro di una città. Ecco, questa volta, io non so se, questa volta è morta la bambina, sono rimasti ristionati la sua famiglia, ma poteva andare molto peggio. Aspettiamo che accada anche in centro a Roma o Firenze, o cerchiamo di cambiare le cose? Io propongo due cose. O si costruiscono, di nuovo, dei veicoli nuovi per le frecce, quindi con almeno i due motori, e poi, secondo me, comunque si deve cercare di fare le manifestazioni non in piena città, quindi sempre un po' fuori. Ecco, però almeno il doppio motore. Oppure, oppure si resta col singolo motore, ma proprio si va in zone completamente rurali e più sicure possibili. Non credo che ci siano altre alternative, perché rischiare, perché dobbiamo far vedere che siamo bravi a fare queste manifestazioni con questi voli acrobatici, secondo me il gioco non vale la candela, perché poi quando succede, sono capace anch'io di fare le condoglianze alla famiglia, però io se fossi in quel padre lì che ha cercato di salvare la figlia, è rimasto ristionato anche lui, tutta la famiglia, diciamo, massacrata, in più con il fatto che ha perso la sua figlia, cioè io non so in che condizioni sarei, io non so se potrei, non so, andrei fuori di testa, cioè potrei andare, boh, non so cosa potrei fare, perché rimanere calmi e accettare le scuse, cioè sinceramente non è la prima volta che accade, no? Siccome non è la prima volta che accade, stavolta è più eclatante, ma sono successi già degli incidenti, no? E allora, basta, cioè facciamo, prendiamo delle contromisure, non è possibile continuare in quella maniera qua, cioè aspettiamo che succeda una strage, allora se poi c'è la strage, magari aboliamo tutto, c'è anche una via di mezzo, cioè pensiamoci, visto il costo, fra l'altro veicoli che secondo me, cioè hanno tanto di quel carburante a bordo che possono fare veramente una strage, no? Ma a parte che anche se sono mezzi vuoti la fanno la strage, però voglio dire, troviamo una soluzione, è ora di finirla, cioè insomma è ora di finirla, cioè non è possibile, cioè una famiglia passa lì in macchina, si vede travolgere, gli arriva un caccia addosso, cioè perché? Perché si stava esercitando e ha centrato degli uccelli probabilmente, oppure perché è l'unico motore che è andato in avaria, oppure perché addirittura si dice che abbiano ignorato l'avviso, che ci fosse stato l'avviso di pericolo di stormi di uccelli, beh, in quel caso lì è gravissimo, però voglio sperare che non sia così, cioè io non ci credo, perché se fosse così sarebbe una roba da, boh, chi ha ignorato l'avviso, galera 10-15 anni, minimo, radiazione del corpo, qualsiasi cosa, niente, cioè non so cosa dire, non ci sono parole, ci sono, ne succede di tutti i colori, perché non è che tutti i giorni ne sentiamo una, però almeno quelle evitabili, poi dopo ci succedono dei fatti di ogni tipo, assurdi, veramente, gente che ammazza per 50 euro, quindi in confronto a questo, che chiaramente è un incidente, non è paragonabile, però dobbiamo cercare di evitare quello che è evitabile, bisogna migliorare, non si può, e poi soprattutto non bisogna restare, anche come governo, eccetera, indifferenti, nel senso che bisogna porre qualche limite, perché se no continua sempre così, cioè succede un anno fa, due anni fa, tre anni fa, succederà anche fra sei mesi, fra un anno o due, e può essere grave o meno grave, però bisogna piantarla, è inutile, io non sono per abolire, diciamo, le frecce tricolore, per l'amor di Dio, però se non vogliamo abolirle, bisogna evitare che succeda questa roba qua, che possono succedere, cioè, perché tra l'errore umano, e l'aguasto al motore, o il guasto procurato, però, ripeto, se sei in centro a Roma, in centro a Firenze, voglio vedere poi dopo, perché adesso qua, io spero che si faccia qualcosa, ma, o che non si farà niente, forse si sta aspettando che succeda veramente nella grande città, devo pensare a quello, non lo so, va bene, vi saluto, fate anche voi le vostre considerazioni, mi piacerebbe leggere il vostro commento, se siete d'accordo o no, con me, scrivete il vostro commento, e vediamo cosa ne pensate, o vediamo se avete voi delle proposte, ripeto, io non sono né il genio dell'aeronautica, né aerospaziale, né niente, però, ci vuole poco capire, che se succede un incidente, quando passi sopra, al cupolone, o, insomma, la strage può essere veramente, diversa, non che sia poco, distruggere una famiglia, perché così è, va bene, ragioniamoci insieme, fatemi sapere cosa ne pensate, mettete un mi piace, se vi è piaciuto questo primo notiziario, che più che un notiziario, il mio commento ha i fatti gravi, più o meno gravi, o anche positivi, che potranno capitare adesso e in futuro, ci vediamo alla prossima occasione, ciao!